Sì, abbiamo deciso di far salire su nave Vespucci il meglio dell'Italia, dal cinema all'industria, dalla musica alla cultura, per rappresentare in giro per il mondo cosa questo paese ha fatto nei secoli e cosa può fare nei prossimi secoli. Quindi per raccontare la grandezza passata, ma quella futura dell'Italia. Utilizzare la nave Vespucci ci serve per entrare in ogni paese, nell'anima di quel paese e raccontarci in modo diverso.